ciao io sono la vostra levi tabata vacci vacci questo è il mio saluto oggi sono venuta a genova per sentire luca bete in non ci ferma nessuno innanzitutto lui è un motivatore ed è un uomo positivo per cui ai ragazzi giovani e anche ai ragazzi meno giovani motiva ed ha tanta positività cerca almeno di lavorare sul problema della paura perché la paura ferma perché ti fa paura quello che non conosci e allora lui con la semplicità più aggreabile mi viene da dire con il suo metodo così che ti abbraccia di dolcezza fa capire a questi ragazzi universitari che la paura non esiste se non provi e se provi e ti prendi delle porte in faccia pace se ti piace dove vuoi andare e ti sei preso una porta in faccia e quello il tuo sogno vai avanti continua a non avere paura non ti fermare non ci ferma nessuno bacci bacci bacci